Per nove giorni al mese ci salirà pure il medico, altrimenti l'equivaggio dell'ambulanza potrà contare solo sull'infermiere. L'ennesima trovata riguarda Scanno, ancora una volta penalizzata sul fronte sanitario. Si continua a privare Scanno di servizi sanitari. Solo per nove giorni al mese, da sabato 1 aprile, sarà garantita la presenza del medico a bordo dell'ambulanza del servizio 118 a Scanno, mentre nelle restanti settimane sarà presente solo l'infermiere. Ho appena preso questa notizia come un fumine a ciel sereno, scrive il sindaco Giovanni Mastro Giovanni, anziché potenziare l'offerta di assistenza sanitaria medicalizzata, prolungandola a 24 ore, come tra l'altro tanto Mastro Giovanni ma i sindaci stanno chiedendo da anni, per poter garantire l'emergenza giorno e notte, ci si ritrova di nuovo ad alzare la voce di fronte a privazioni. La nostra comunità, prosegue il sindaco, affronta già situazioni di disagio per poter garantire le prestazioni mediche ai cittadini. Basti pensare alle difficoltà per il medico di base, all'assenza di pediatri e a un centro vaccinale per bambini. La sanità è in forte difficoltà in un territorio montano come il nostro, a forte vocazione turistica, a distante chilometri dal più vicino presidio ospedaliero. Abbiamo chiesto più volte l'intervento dell'assessore regionale della sanità per cambiare rotta. Ci siamo rivolti anche al ministro della salute, ma non abbiamo mai ricevuto risposte. Il sindaco non si ferma ed è pronto a fare di tutto pur di difendere il diritto alla salute della sua comunità.